Ecco come inizia l'avventura, a noi non interessa se abitiamo lontani, tutto quello che vogliamo fare è fare magia Non ce la faremo mai La prima cosa che ci chiediamo non è come stai, ma dove sono le carte Jack, le carte Jack, le carte Ma le carte? Ma le carte? In qualunque posto noi siamo, noi tiriamo fuori le carte Jack, Jack, quello, 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 quello Quale? Quello lì Questo Scusi, ma le carte? E se una cosa non ci riesce al primo tentativo, beh, stiamo lì fin quando non ce la facciamo Sta buono Ogni volta portiamo nuove idee, ci confrontiamo Jack, fai proprio schifo con le mani oggi Oh, fantastico Arriviamo tra cinque minuti Siamo lì tra due minuti Cerchiamo di creare magia con qualunque cosa No, siamo in tre Abbiamo quasi perso il treno E abbiamo anche quasi perso una moneta nell'idromassaggio Quattro maghi in piscina Lawrence, dobbiamo spiegare che cosa è successo oggi nell'idromassaggio Eh, in parole povere Caso strano, ha perso un Morgan Moneta d'argento Dentro l'idromassaggio, pieno di gente Comentate Ogni volta che stiamo assieme si crea quell'atmosfera E se siamo tutti qui oggi è perché amiamo la magia E se si vuole raggiungere il successo Sempre le scale e mai l'ascensore Oh, ma hai visto con la gnocca? Cazzo con la gnocca? Ehi, grazie Ehi